Come creare un portafoglio criptografico Prism in un minuto? Scarica e installa il software Prism solo da risorse ufficiali. Prism.space Scegliere G-Tab Clicca sul link Portafoglio online facile da usare v1.3 Scegli la lingua del tuo paese Registrazione Una finestra si è aperta con la generazione di una chiave privata Per aumentare la sicurezza della chiave privata Aggiungi 16 caratteri casuali in posizioni casuali nell'alfabeto latino dall'az a z Puoi anche eliminare completamente le parole generate e inventare tu stesso l'intera chiave In questo caso, è necessario inserire almeno 113 caratteri in latino La chiave viene generata Fare clic sul pulsante di copia Creare un documento di testo Incollare la passphrase copiata al suo interno Per la sicurezza, duplicare la chiave privata più volte Ora salva il documento Copiare la chiave privata dal documento di testo Questo deve essere fatto Vai al browser Fai clic su login Incollare la passphrase copiata dal documento di testo Questa è la chiave per accedere al tuo portafoglio personale Fai clic su inserisci il portafoglio Questa è l'interfaccia interna del portafoglio Felicitazioni Hai creato il tuo portafoglio Prism personale Non hai inserito i tuoi dati personali Non hai autorizzato il portafoglio via email Non hai verificato il tuo telefono Inferenza Il portafoglio è anonimo al 100% Questo è l'indirizzo pubblico del tuo portafoglio Sulla blockchain di Prism, tutti possono vedere questo indirizzo Ma, nessuno sarà in grado di dimostrare che l'indirizzo di questo portafoglio appartiene a te Fai clic sull'indirizzo dal tuo portafoglio I dettagli pubblici dal tuo portafoglio sono usciti Codice QR per trasferire monete al tuo portafoglio Sotto Indirizzo e chiave pubblica Copiali Inserire in un documento di testo Scattiamo una foto di questo documento Stampa su una stampante personale E Trasferiamo tutti i dati da questo documento alla tua chiavetta USB Attenzione La passphrase verrà memorizzata solo sul documento Word e sull'unità Flash Questa chiave del tuo portafoglio non è memorizzata da nessun'altra parte Accedi con la passphrase più volte e assicurati che l'indirizzo e la chiave pubblica corrispondano La passphrase non può essere modificata E Non può essere recuperato se l'unità Flash viene persa Se perdi la tua passphrase Non prelevare monete dal tuo portafoglio Non esiste una gestione fiduciaria delle tue monete Non c'è intermediario tra te e il tuo portafoglio Nessuno può inviare monete dal tuo portafoglio tranne te Tu e solo tu sei il padrone delle tue monete Tu e solo tu sei il proprietario di questa password Tu e solo tu sei il proprietario di questo portafoglio Da qui hai la passphrase e solo tu Ora puoi Usa il tuo portafoglio Effettuare e ricevere transazioni Genera nuove monete nel tuo portafoglio Nella parte inferiore del portafoglio ci sono diversi pulsanti Dati del portafoglio Pulsante schermo chiaro e scuro Pulsante per inviare monete al cliente scansionando il suo codice QR Prelievo di monete dal portafoglio ai dettagli del cliente In alto, facendo clic su questo occhio Puoi vedere i dati privati sul tuo portafoglio Che non dovrebbero essere mostrati a nessuno Puoi visualizzarli e stamparli solo quando accedi al tuo portafoglio Utilizzando una frase privata Crea il tuo codice PIN a 4 cifre Ricordatelo Inserire di nuovo Ora è possibile stampare il documento Vai allo spazio dei punti del repository PRISM Selezionare il collegamento per scaricare il client Windows o Mac OS X Linux Scarica il file di installazione del portafoglio per il tuo sistema operativo E installa il software PRISM Wallet Questo è il modo più sicuro per gestire le tue monete dal tuo personal computer Installa PRISM Core sul tuo computer E inizia a forgiare Maggiori dettagli sul sito ufficiale www.https2.pzm.space-m-prism-forging Tutti i link sotto il video nella descrizione